Allora, Sandra Moretti, psicoterapeuta spezzina, è uscito il primo libro di una trilogia fantasy, l'isola di Etta. Ecco, di che cosa si tratta? Si tratta del viaggio inaspettato di una ragazza di nome Leiteria, che uscendo dal funerale del padre si trova proiettata in un mondo nuovo, in una realtà lei sconosciuta, che scopre presto essere un mondo parallelo al nostro, con un'ipertecnologia, abitato sempre da esseri umani, ma all'interno di una politica di regime fortemente limitativa, tanto che tutti gli abitanti si trovano a dover indossare un chip. Proprio per l'assenza di questo chip viene subito fermata dalla polizia locale e identificata come una persona non appartenente al sistema, questo regime che gestisce l'intera isola di Etta. Da lì inizia un po' la sua odissea per cercare di capire come è finita lì, ma ancor più come tornare a casa e riprendere in mano la sua vita. Quando hai deciso di scrivere questo libro e quanto ci hai messo a pubblicarlo? Allora, ho deciso di scrivere questo libro che era alla fine del 2012, un po' come esercizio per me stessa, era un periodo in cui ero faticata sul lavoro, magari un po' più stressata e consigliando sempre ai miei pazienti di fare degli esercizi di scrittura creativa o comunque di trovare dei modi di esprimere lo stress in maniera costruttiva, ho deciso di farlo anche su me stessa e ho iniziato a scrivere qualcosina sparsa. La storia non era particolarmente definita, però mi rilassava molto e quindi sono andata avanti un po' alla volta, un po' alla volta è venuto fuori poi la trilogia e quindi a quel punto ho pensato vabbè proviamo a vedere se a qualcuno può interessare e al massimo rimaneva un ottimo esercizio di espressione emotiva. A quel punto al Salone del Libro di Torino di due anni fa sono andata con una serie di sinossi e insomma un po' dei capitoli qua e là e l'ho lasciata alle case editrici più piccole perché quelle grandi erano irraggiungibili, nel senso che c'erano solo i commessi, quindi anche volendo, invece le case più piccole avevano gli editori proprio agli stand e dopo un mese la tabula fatti, la persona del proprietario, il titolare che è Marco Solfanelli, mi ha contattata per dire che se a me andava bene, loro erano interessati a pubblicare nella loro collana scienza e fantascienza e da lì abbiamo iniziato il lavoro un po' di editing e tutta la parte grafica, strutturale. Ecco, in questo libro c'è anche tanto del tuo lavoro, perché? Ma perché credo che comunque la scrittura sia un modo per comunicare con me tutte le arti, anche dei valori, dei significati ulteriori tra le righe, quindi perché vorrei che gli adolescenti che seguo forse reagissero un po' come te nel momento della difficoltà, invece che porsi in una posizione di vittima o di comunque sofferenza, cercare di vedere il buono e di costruire un'occasione da una situazione inaspettata e perché credo che davvero servano dei messaggi costruttivi, anche di figure femminili che non aspettano di essere salvate, ma trovano il modo di salvarsi da sole e dall'altro lato forse anche di salvare gli altri con le loro scelte e le loro azioni.